La nostra regione è interessata da un flebile promontorio in quota, il quale nel corso della giornata di sabato verrà parzialmente demolito ad ovest da un cavo d'onda collegato alla vasta profonda circolazione depressionaria presente sull'Atlantico settentrionale. Si tratta della depressione semipermanente di Slanta che nei prossimi giorni si allungherà verso sud-est nel tentativo di determinare un cambio di circolazione sul Mediterraneo con l'inserimento di correnti meridionali a curvatura ciclonica. Autunno dunque che presenterà probabilmente il suo biglietto da visita nel corso della prossima settimana con le prime tempeste equinoziali che interesseranno gran parte delle regioni italiane ma veniamo al tempo previsto per questo fine settimana. Sabato 2 ottobre cielo irregolarmente nuvoloso con attenzamenti consistenti nel corso del pomeriggio nelle aree a ridosso dei rilievi esposte ad ovest dove potrebbero verificarsi isolati rovesci. I fenomeni più intensi dovrebbero verificarsi in mare aperto e progredire verso la costa nel corso della serata e nottata su domenica. Temperature senza particolari variazioni, venti deboli di direzione variabile con una maggiore componente meridionale, mare mosso. Domenica 3 al mattino cielo molto nuvoloso sul settore occidentale con locali piovasti sparsi, specie tra il napoletano e il casertano. Nel corso del pomeriggio la nuvolosità tenderà ad aumentare nelle aree montuose dove saranno possibili isolati rovesci. Miglioramento ovunque dalla serata. Temperature stazionarie, venti da deboli a moderati da sud tendenti a disporsi da scirocco dalla serata. Mare mosso con tendenza ad aumento del moto ondoso dal pomeriggio sera. Lunedì la circolazione depressionaria presente in Atlantico si avvicinerà la nostra penisola convogliando sulla nostra regione intense correnti sciroccali che determineranno un temporaneo aumento delle temperature soprattutto nei valori minimi. Sarà però il preludio ad un peggioramento abbastanza vistoso che si concretizzerà tra la serata e le prime ore di martedì con l'arrivo di piogge e temporali. La rotazione del vento dei quadranti occidentali, quindi questo successivamente a partire da martedì, favorirà una netta diminuzione delle temperature che avvertiremo soprattutto appunto tra martedì e mercoledì. Prossima settimana dunque che si annuncia di stampo autunnale con fenomenologia che potrebbe rilevarsi anche intensa ma su questo occorre riaggiornarsi e pertanto invito i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteogiuliacci.it e sul gruppo Facebook Meteo Cilento. Bene, termino qui. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.